Nel cuore di Milano, nel lontano 1996, nasce Talento, un'idea, un progetto, un'ambizione. Un gruppo di visionari, esperti di didattica e tecnologie, si unisce con un obiettivo comune, rivoluzionare il mondo del digital learning in Italia. Con la nascita di Talento Plus nel 2013, Talento amplia l'offerta formativa, introduce tecnologie d'avanguardia e raggiunge nuovi mercati. Ma Talento non è solo storia e innovazione, è soprattutto persone. Un mix equilibrato di senior manager e giovani talenti che ogni giorno si impegna con passione ed entusiasmo per soddisfare le necessità formative dei clienti. Ah, e c'è anche lui! Le certificazioni? Talento le ha, anche se la qualità delle nostre soluzioni parla da sé, così come i nostri partner italiani, ma anche internazionali. Questa è la storia di Talento, un luogo in cui il digital learning non è solo apprendimento, ma una vera e propria esperienza di crescita e scoperta. Grazie a tutti!